sono ancora da abrucino allora forse da cambiare la resistenza della svapo ma stiamo parlando della sigaret elettronica tanto io sto filmando la luce cima panarotta si sono io che mi muovo con il telefono non riesco non sono treppiedi qualcuno che ci lavora su no basta l'anno spenta no c'è ancora sopra vetriolo praticamente cima panarotta quelle luci che si intravedono in basso e vetriolo mentre la luce sulla cima ma non si sa qualcuno che lavora in piena notte con i fari non è una macchina perché non è una macchina vabbè a posto così ciao a tutti grazie dell'attenzione luce misteriosa cima panarotta ciao ciao di nuovo da vladimiro grazie 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 grazie